Guardiamo cosa da dire a Nazca, aspetta Bambini che piangono, genitori che minacciano E i soliti post con polemiche, critiche, insulti contro Nazca E' una storia che ormai si ripete da sette anni E chiariamoci, finché ci sono gli hater online che commentano e scrivono Neanche gli do peso Però nel momento in cui sono su un'auto da corsa in cui rischio di ammazzarmi E qualcuno viene lì fisicamente a creare problemi Devo fare qualcosa Soprattutto perché l'episodio successo qualche settimana fa E' qualcosa che proprio cioè non riesco a digerire Così ho deciso di fare questo video Voglio raccontarvi quello che è successo Voglio spiegare le cose in modo chiaro e sincero So che succederà ancora Però almeno Che contenuti porta questo tipo? Allora, innanzitutto si chiama Alberto Nazca Non un tipo qualunque Ha quasi un milione di iscritti E' un pilota E tratta tutto quello che riguarda il mondo dei motori Principalmente Ci spiega tante cose Anzi Ringraziamo Nazca Se ho avuto questo signore Che si è ricreduto E adesso guarda i miei video perché spiego le cose Dico le cose che hanno un senso Perché è stato solo grazie a Nazca E tutti i suoi video che ho visto E tutto quello che ho imparato è grazie a lui Quindi un ringraziamento speciale va a Nazca Ci spiega Ci ha spiegato veramente tanto Tante cose sulla Formula 1 Motori Lui è lo stesso come ripeto è un pilota Ehm Sì Tante cose fighe Fica 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 Sì Con questo video posso dire Ehi Io l'avevo detto Partiamo dal dire Chi è Alberto Nazca Ah ecco Video auto da corsa Creo contenuti online Ho quasi un milione di persone che mi segue Ma chi dice la stessa cosa che ho detto io? Vabbè ok Ma prima di questo sono Alberto Fontana Cioè una persona Ecco Forse qualcuno se l'è perso Ci sta L'ho detto solo una volta Ma non sono una persona normale Questa è una diagnosi Specialistica Disturbo d'ansia non specificato E sindrome di Asperger Tra l'altro anche lì abbiamo fatto la poll Perché la media di chi è fatto strano come me 134 punti Io ne ho fatti 168 Che non è il cui di mai quanto sei strano Cosa Eh tutti questi test li devo fare anch'io Significa tutto questo Ci sono libri interi che lo spiegano Farò un video abbastanza corposo Perché è complesso da capire Per sintetizzare ho fatto questo schemino Che riassume solo alcune robe Cioè i luoghi affollati mi creano un forte stress Le interazioni sociali in generale Ma soprattutto con chi non conosco Mi generano stress Io ho bisogno di una routine Se quella routine viene interrotta Mi genera stress E tutto questo genera poi ossessione Cioè quando mi ossessiono su qualcosa Ci metto mesi o anni A togliermela dalla testa Non per niente danni prendo farmaci Che mi aiutano a gestire un po' queste cose Non le risolvono però E qui probabilmente Chi non mi conosce E non vive con me ogni giorno Dirà Ma che cazzo stai a dire Cioè io ti vedo normale Nei video in giro Sembrino Ma chi lo dice Non capisce un cazzo Anche... Vabbè Romano Esatto Sembri Per sembrare normale E mascherare tutti questi problemi Faccio tanta fatica Brucio tante energie Però lo faccio Cioè nel senso Vivo in un mondo Di 8 miliardi di persone Non posso passare giornate A scassare la minchia Dicendo Eh io Sono diverso Dovete adattarvi voi No Cosa che qualcuno Nel 2024 Non ha capito Ora sono felice di impegnarmi Per essere normale Però non sempre ci riesco E tra poco ci arriviamo Guardiamo adesso Il Nasca pilota Cosa faccio? Si dice sempre Motorsport is dangerous Uno sport dove ci si fa male E a volte anche si crepa Finora ci ho lasciato 12 ossa Speriamo Siano le ultime Poi ci sono anche I danni economici Quello che voglio dire Semplicemente Che per fare una curva Di traverso A 185 km Aria 30 cm Al muro Questo deve essere Perfettamente lucido E poi C'è come dicevo prima Anche il Nasca creatore di contenuti Ho quasi un milione di persone Che mi segue Persone a cui voglio bene Sia perché hanno scelto Di guardare i miei video Sia perché mi hanno anche Sostenuto Per correre e portare Questi video Il minimo che posso fare Per ricompensare Questa gratitudine E concedere del tempo Per un saluto O per una foto E lo faccio Sempre E con grande piacere C'è solo un momento In cui non posso farlo Con nessuno E lo dico da anni Ed è Quando sono in pista Con auto da corsa Per fare attività O cose simili Ora non è che non posso mai Semplicemente non posso Durante l'attività Questo è uno schemino Che riassume la tipica giornata in pista Qui c'è il sonno Spero di dormire bene Poi la mattina Di solito alle 8 Ma puoi anche essere dopo Prima Inizia Tutto questo momento qua Bel disegno Lavoro Guida Stress E qui non posso Però alla fine Sì Sono disponibile Con tutti Quello che forse Si fatica a capire Stando all'altra parte Dello schermo E che purtroppo Non avendo il papi Che paga per farmi correre Devo lavorare tanto Per pagare le corse E l'unico modo Che ho trovato È quello di fare i video Con cui trovo gli sponsor Il problema è che Non è che lavoro Durante la settimana E poi in pista Corro e basta Ma anzi La maggior parte del lavoro La devo fare in pista Mentre corro Quindi tutta questa parte qua È massacrante Video Guida Briefing Video Analisi tecniche Problemi Direzione gare Incidio Mi trovo a dover fare più cose Di un pilota normale Anche perché ho scelto Di fare tre campionati Ma soprattutto Perché qua Devo fare anche i video E in tutto questo Se mi capitano Dei momenti liberi Li uso per Respirare Recuperare energia Perché ricordiamoci Non sono in spiaggia Sto facendo uno sport Molto rischioso Tutto questo carico Di lavoro qua Soprattutto A una persona Che soffre di questo Mi rende estremamente Nervoso Attenzione Non mi sto lamentando Cioè l'ho scelto io Sto solo spiegando Quello che succede qua dentro Perché da fuori Dove pure metterle le mani davanti Per quelli che potrebbero criticarlo Adesso Arriva una qualunque influenza esterna Che sia un qualcuno Che si deve presentare Per un lavoro O che sia un fan Che chiede una foto Due chiacchiere In me si genera Un piccolo stress Perché viene interrotta La routine Che ho di quella giornata Per fortuna Questo che per chi non lo sapesse Si chiama autismo Nel mio caso è Lieve Si può avere una vita Pseudo normale Ci sono casi gravi In cui se gli interrompi La routine Si tagliano le vene Per fortuna Non è il mio caso Non lo faccio apposta Semplicemente qua dentro C'è qualcosa Che è un collegato Al contrario Quindi che succede? Un'interazione La gestisco Due anche Quando però ci sono 10, 20, 50, 100 persone Che vengono a vedere una gara E che vogliono conoscermi E che vengono spalmati Nel corso di tutta la giornata Mi sono reso conto Che in questo turbinio di cose La mia testa sbrocca Non ce la faccio Accumulo così tanto stress Che poi quando scendo in pista Non solo rischio di andare più piano Ma rischio anche di fare degli errori Così in questi anni Ho trovato una soluzione mega semplice Perché comunque io sono felice Di conoscervi Per incontrarvi dal vivo E allora ho detto Cavolo facciamolo qua Tanto chi viene a vedermi in pista La vuole vedere la gara Quindi alla fine dell'ultima gara Anche se ci sono 40 gradi Anche se sto male Anche se chi cazzo Mi fermo fino alla fine E faccio felici tutti Attenzione Non sono obbligato a farlo C'è chi se ne frega E non lo fa Io non Non sono una di quelle persone A me piace essere grato Con chi mi segue Purtroppo però A volte succedono degli episodi brutti Come quello successo Qualche giorno fa Arrivo a Pergusa Vado a letto in realtà Alle 2 Perché siamo arrivati tardi Mi sveglio alle 8 E inizia una delle giornate Più caotiche della storia Vi giuro Dalle 8 del mattino Alle 8 di sera Non mi sono fermato un secondo Dovuto registrare un video Due video Tre video Turni Problemi Menate burocratiche Briefing Direzione gara Cioè una roba Con 32 gradi E' stata una giornata tosta In tutto questo vortice di cose La mattina mi dicono Che una bambina O bambino Non voglio proprio dare riferimenti Che era lì con i genitori Mi avrebbe fatto un'intervista Per i suoi canali Non era lavoro Non era sponso Però cavolo Posso far felice una bambina Perché no Ecco Questa cosa l'ha gestita Al mio ufficio stampa Con cui poi magari Miglioreremo un po' il metodo Però hai presente Quando stai facendo 18 cose Te ne dicono una Tu proprio c'è Neanche la senti Ti passa davanti E non la capisci A me mi hanno detto quella roba Io neanche l'ho capito Insomma la giornata prosegue Corri di qua Corri di là Stress me Continuo a vedere Questi genitori Con una persona piccola Che mi facevano i video E non capivo cosa stessero facendo Ero focus su mille robe Ecco un'altra caratteristica Che poi vi spiegherò di questo Che quando sono focalizzato Su una roba Potrebbe cadere un meteorite Io non me ne accorgo Insomma Ero nella mia routine Cercavo di tenere lontano Tutto quello che mi facesse uscire Perché se no sbroccavo E quindi in questa giornata frenetica Continuavo ad avere persone Che continuavano A interagire E io A volte rispondevo anche male No non posso Sono di corsa Cazzo raga È una gara Cioè non sono Spiaggia Tra queste persone C'erano anche i genitori Con il bambino O bambina Quello che è Che mi ha beccato I momenti veramente di merda Io continuavo a dire Non posso non posso Facciamo la fine Facciamo la fine Insomma finalmente Arriviamo alle otto e un quarto Finisce il deliro della giornata Finalmente Stacco il cervello Sono libero per tutti Conoscenze Foto Cioè Però i genitori Con figlio o figlia Non li vedo più Vado a cena Prendo il telefono E mi dicono Ma come fanno Non capirono le persone però Cioè io questo non lo capisco Non capisco Come fanno a non capire Che sta facendo Una cosa così importante E non lo devono disturbare Boh E guarda Ti hanno taggato in un post Su tiktok Alberto Nasca Eravamo felici in quella foto Ti sei comportato malissimo Aspetta un video di ringraziamento Per come ti sei comportato con me Che sono solo un bambino Dei dieci anni AC Sport GRT Motorsport Aiutatemi a far arrivare questo video A Nasca taggandolo Così arriverà a vedere Quanti complimenti Gli farò in quel video Mi chiamo su youtube Ovviamente censura Non lo so Ma non finisce qua Perché il genitore A quel punto Rincarra la dose E inizia a mandare messaggi privati Su whatsapp A tutti i miei collaboratori Con la foto Ma addio Ma che problemi hanno Della bambina Bambino Che piange Della serie Guarda Nasca Che cosa hai fatto Faglielo vedere Faglielo arrivare a lui Premesso che Mi spiace molto Per questa persona Di dieci anni Perché voleva essere Un giorno speciale E invece avrà un brutto ricordo Quindi se sta guardando Questo video Ti chiedo scusa Se ti ho fatto star male Non ho assolutamente Niente contro di te Ma anche perché I bambini Non hanno colpe Sono i genitori I genitori invece Se sei un bambino Che mi segue su youtube E stai guardando Questo video Un giorno Vuoi venire a vedere Una mia gara Ti prego Te lo chiedo Col cuore in mano Fai vedere questo video I tuoi genitori O a chi ti porterà in pista Perché Se guardano questo video Probabilmente capiranno Ora Secondo voi Come ho reagito Nel vedere questo Dopo una giornata massacrata Si è incazzato Malissimo Ma soprattutto Mi sono anche incazzato Come una bestia Con i genitori Ho passato una serata Di merda Non ho chiuso occhio Ma è arrivato in pista Con due ore di sonno E se avete visto I risultati di Percusa Avevamo buttato Nel cesso il campionato Ma per carità È colpa mia Cioè Ci sto provando da anni Con la Ma non credo sia colpa sua Non è colpa sua Lui sta cercando di Prendersi le colpe Che non ha Secondo me Dovrebbero dire i genitori È colpa nostra Teste di cazzo Veramente Terapia Dovrei riuscire a spegnere questo Ancora non ci riesco Ma no Non è facile Non sono una persona normale Ovviamente Dopo qualche ora Il post è stato tolto Di solito Si fa così Prima lanci la merda E poi Ora Non sono genitore Dicono che sia il mestiere Più difficile del mondo Quando sarò genitore Ah Per il campionato buttato Intendi Capirò tante cose Farò tanti errori Però anche senza essere genitore Ci sono due o tre cose Che so La prima TikTok è vietato ai minori Di 14 anni Non lo dico io Lo dice il regolamento E quello che mi sento di dire io È che dare questo in mano A un bambino Non è solo vietato È anche pericoloso Ti rendi conto che lo deve dire lui I genitori Ma ti rendi conto Dove siamo arrivati Cioè io che ho 34 anni Qui sopra ho visto delle robe Che non mi hanno fatto dormire Per una settimana Anche io ho visto una volta Non riesco a mai Anche io avevo visto Un video una volta Che Mi ha fatto star male Facevo gli incubi Per tot giorni Cioè per tot notti Immaginare cosa possano fare Nella testa di un bambino E soprattutto Se glielo si dà Con un suo account personale Cioè si sta aprendo la porta A robe molto pericolose Secondo Prendere le emozioni Di un bambino E strumentalizzarle Per attaccare qualcuno Significa esporre quel bambino A tutta una serie di attacchi Gli attacchi online Fanno molto male agli adulti Figuriamoci ai più piccoli La terza Educazione Empatia Rispetto I bambini a volte Non hanno la maturità Di capire certe cose Ma gli adulti dovrebbero Quindi perché Per un adulto È così difficile capire Che in questo momento Io non sono La principessa Disney Che salì a salutare tutti Per farsi le foto Ma sto facendo una cosa Estremamente pericolosa E stressante Quindi non posso essere Disponibile in quel momento E quindi Se il bambino Per qualunque cosa Ci resta male Non devi prenderlo E fomentarlo E scagliare Beh però raga Pensate Nasca Ha un seguito Così enorme Non certo Non lo paragoniamo Ai piloti di Formula 1 Magari Però È la stessa cosa Che sta facendo Cioè sta facendo Stessa cosa Pericolosa Impegnativa Come anche i piloti Di Formula 1 Ma come fanno I piloti di Formula 1 Però a evitare Tutto questo Tutto questo Va e vieni Di persone Non lo so Forse quando vanno A fare le gare Ci sono delle zone apposte È organizzato meglio Chi può entrare Chi non può entrare Chi può venire Chi non può venire È organizzato meglio Il tempo Ci sono più persone Che dicono Tu in questo preciso istante Non puoi venire Adesso non si può entrare qui È tutto chiuso Quindi dipende Dall'organizzazione Del posto In cui lui va Lui Non può Strapparsi In mille Sai Pezzi Per tutti quanti Piarlo contro tutti Devi dirgli Ehi guarda che nasco In quel momento Sei agitato Non è perché è cattivo È perché Sta passando un brutto momento Sono inavvicinabile Esatto Torniamo lì In queste gare che fa lui Credo sia un attimino Più chill La cosa Ecco perché Sei vicino a una persona No Non esiste Mi fate le foto E sarei felice Cioè Il genitore deve insegnarle Certe cose Non lo so Ho voluto fare questo video Semplicemente perché Per alcuni Sembra difficile Da capire E quando poi la gente Inizia a insultare Mi fa passare Ti serve sì Se rifiuti la foto A due bambini Di 5-7 anni Chiesti in pieno parco Chiuso Quando invece Gaggianesi E Ian Rocca Stramega Educati E sì Non c'era nessuno In quel momento A chiederti la foto Ma poi È bico obbligato A farsi la foto Con gli altri Forse perché Dovevo correre In direzione a gara Mentre Gaggianese E Rocca No E forse perché Il parco chiuso Si chiama così Perché l'accesso È vietato a chiunque Che gente difficile Come il cattivone Lo stronzo Cioè Mi girano anche E ripeto Questo è solo un episodio Ma ce ne sono tanti Cioè Questi che si sono infilati Nel parco chiuso Dove è vietato entrare E ci sono rimasti male C'è gente poi Che si infila nel box Nel camion Cazzo Cioè Lì ci sono attrezzi Benzina Allora non sono molto controllati Sì Sono comunque chiusi Ma la gente Ci entra lo stesso Robe che tagliano Robe che scottano Ci si ustiona Cioè se uno si fa male Poi colpa mia Io vi giuro Una volta prima di una gara Ho beccato un bambino Che era lì Che continuava a tirare La roba dell'estintore Della macchina Meno male che il meccanico Mi ha messo la sicura Perché se faceva saltare L'estintore Weekend finito E la cosa che poi Mi manda un po' in confusione È che quando cerco di spiegare Che qui Non sono disponibile Non perché sono cattivo Ma semplicemente Sto chiedendo la cortesia Di vederci dopo Anziché dire Ok scusa va bene Dicevo risposta del tipo Cosa ti costa fare una foto Cinque secondi Sì ma non esisti solo tu Ci sono altre cento persone E se quei cinque secondi Li sparpagliamo per cento volte Non ce l'ha Non posso Non riesco a gestirla È molto meglio Se ci vediamo tutti alla fine Si chiacchiera Si scherza Io capisco che per chi viene lì Io sono uno Però per me sono un milione Non è uno solo Oppure poi sento roba Tipo ah Leclerc si fa le foto Prima della gara Fatte che Leclerc non ne nasca Poi Leclerc arriva Si fa le foto Con quei 4-5 Che stanno al cancello Poi si chiude nel box Ed è blindato Io correndo I campionati nazionali Sono nel paddo caperto Non ci sono controlli Non c'è niente Cioè c'è gente Che mi apre la portiera Mentre sto entrando in griglia E se in quel momento parto Lo investo E gli faccio male Vi dico Cioè sta diventando un po' difficile per me Piccolissimo recap Se mi incontrate in qualunque luogo del mondo In qualunque momento della vita Sarò sempre disponibile con tutti Felice di salutare Fare una foto sempre Ovvio a meno che non sto perdendo un aereo Sono di corsa O non sono funerale Se invece venite a vedere una gara Sono mega felice di avere la tribuna Con le pre... Assolutamente Dovrebbero renderlo più sicuro Esatto Cazzo fanno Persone che fanno il tifo I striscioni Wow Sono felicissimo di conoscervi Tutti vi prego Alla fine Qui Il nasca felice Simpatico Sorridente Non esiste Qui sono Stressato Nervoso Ansioso Rabbioso Cattivo Tutto quello che di peggio possa esistere Io lo sono qua Cioè qui sono un'altra persona Le uniche persone con cui parlo Sono gli amici stretti O i meccanici O il team O amici Famiglia E a volte mando a cagare pure loro Mi sopportano Mia moglie non mi sopporta già più E... Vediamoci qua Tenendo anche presente Che se ho demolito la macchina Nell'ultima gara Magari mi stare ecco Mezz'ora per Per sbollire Sono un essere umano Non sono una macchina Tutto qui Grazie Cosa ne pensate? Io sono completamente d'accordo E in realtà Mi viene da pensare Adesso leggiamo i commenti Mi viene da pensare È assurdo dover dire Spiegare Fare un video Giustificarsi Quando in realtà Basterebbe usare Il cazzo di cervello Che hanno le persone Ma la gente È veramente stupida Bisogna dire Qualsiasi cosa Spiegare tutto Che fastidio Sia per i fan Che per i piloti Perché poi succede Come in un suo vecchio video Dove li sabbo Sabota Sabotano Sabotano Sabot Sabota Sabota Si dice così La macchina Con il rischio di ammazzarsi Ma che cazzo Giusto Ma se queste cose Sono più possibili È organizzato male Non ci si può affidare Il buonsenso Questo si è capito Assolutamente Deve essere organizzato meglio Sì A Pergusa Volevo farmi autografare Il casco d'album Ma mi disse Torna Dopo le libere Indovinato un po' Dopo le libere L'ho affermato Grazie ancora a Nasca Dover fare questo video Nel 2024 Ci dovrebbe far rendere conto Che c'è una recensione Mostruosa Nell'educazione di oggi Ah Recessione mostruosa Nell'educazione di oggi Certa gente Romperebbe le palle Pure a un chirurgo Mentre sta eseguendo Un'operazione A cuore aperto E riuscirebbe A non capire I vaffanculo Che arrivano Di risposta Lo scorso luglio Lunga dalla gara Della Nascar Con un mio amico Ti ho visto Nel paddock E camminavo Verso lo stand Per fare la gara Delle legend Eri molto stanco Ti ho salutato Tu ti sei girato In modo molto gentile E ci hai risalutato È stato molto bello Perché quelli del tuo team Ci hanno regalato Delle Red Bull Fresche Di frigorifero Sono riuscito A fare una foto Con Manuel Ciao E spero un giorno Di fare una foto con te Magari anche Un cappellino autografato Lascia perdere Alberto Noi siamo con te Gli haters Sono solo invidiosi Perché tu hai fatto Successo Loro no Non credo che sia questa La risposta giusta Ma va bene C'è qualche commento Tipo Ordina per Dal più recente Sinceramente penso Che ormai i genitori Non riescono più A pensare A dire la verità Perché vogliono Che i figli Pensino sempre Di aver ragione Comunque a valle lunga Non lo so Hai fatto bene A fare questo video Hai fatto bene Almi dovrebbero vergognarsi Quei genitori Quello è vero La zona rossa Ce l'abbiamo tutti I punti Viene da dire Che brutta roba I social Raga Come si chiamano I video invece Dove Li hanno sabotato Hai visto il video Dove fu attaccato Da un ex pilota Tramite una live intervista Praticamente organizzata No no Certo che no Com'è Cioè che come si chiama Tanti video Anche l'altra volta Io vi dicevo Che i video di NASCAR Che vedevamo Erano solo Quelli principalmente Dove ci spiega Le storie La storia Boh Di Formula 1 NASCAR Indie Boh Tutte un po' Le robe dei motori No In generale O anche dei piloti La loro storia Perché sono importanti Perché cosa hanno fatto Quelle robe lì Ma Cose sue No Non le ho ancora viste Merle No Ja Ma No Ma No Ma 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 Grazie a tutti